Paura per Ronaldo, le locuste invadono stadio, scene spaventose in Arabia. Incredibile e inconveniente è la Mecca, durante la gara della Saudi Pro League tra la Lueda e l'Al-Nasr. Formazione in cui milita Cristiano Ronaldo. Gli spettatori che avevano riempito le tribune del King Abdulaziz Sport City Stadium. Sono stati testimoni di un evento unico, una vera e propria invasione di locuste. Le foto che circolano sui social sono eloquenti, centinaia di cavallette si sono depositate sui sedili dell'impianto saudita. Non potevano perdersi lo show di Ronaldo mentre Cristiano Ronaldo dava spettacolo in campo. Segnando quattro reti, i tifosi sugli spalti erano costretti ad evitare le fastidiose locuste. Che riempivano le tribune, anche loro non potevano mancare ad un evento così. Hanno scherzato diversi utenti sui social. Le cavallette hanno fatto di tutto per non perdersi lo show di Cristiano Ronaldo, hanno ribadito in molti. Virgola.